Tatiana, capocannoniere della GSM Verona fino a questo momento è seconda nella classifica generale della Serie A, ti aspettavi questo bottino? No, in verità no, so solo che sono partita col piglio giusto perché ci tengo a fare una buona stagione, anche comunque sia per la squadra. Siamo disputando un ottimo campionato fino ad adesso, adesso arriva il bello, abbiamo tanti scontri diretti, sabato abbiamo il Brescia che ci aspetta, più che per me diciamo che tengo a far bene per vincere questo campionato. Ci sarà un mese veramente importante con tutte le bighe? Sì, sì appunto, sarà sicuramente difficile ma noi ce la vogliamo mettere tutta perché ognuna di noi tiene a questo obiettivo importante, quindi come volevo far capire prima per me può anche segnare Stefani l'importante che andiamo a vincere la partita.